Ciao Babbo Natalino! Cookie! Aspettati dicendo... Miau miau! Non è molto felice che non ci ha meglio! Nancy! Eh no, mi dispiace, la vestagietta doveva essere rossa può per Natale, no Blu? Ciao ragazze! Eccoci qua! Merry Christmas and Happy New Year! Siamo qua per farvi tanti video ricette di Natale. Ricettine semplici e carine, leggere e sane di cose di Natale. Allora, vi faremo tante ricette, quindi questa è solo la prima. Seguiteci perché nei prossimi giorni sporneremo così. Una cannellata di ricette. Una cannellata di ricette di Natale perché ce l'avete tanto chiesto e noi leggiamo sempre tutti i vostri commenti. E adesso nello specifico facciamo... Che facciamo? Ci abbiamo un sacco! I biscotti di Natale! Ginger Bisqueen! Si chiamano così? Gingerbread! Gingerbread! Biscotti alla cannella! Sono troppo buoni! Con le formine! Ho preparato tutto ma le formine non ci stanno! Le formine degli amici! Non ci stanno però! Mi sono dimenticato le formine! Abbiamo anche dato dei tagliere! Brava! Vai! Vai! Avete visto come è bellina la paletta di noi? Tutta Natalizia! Con i fiocchi di vino! Siamo Babbe Nataline! Eccole qua le nostre formine! Facciamo questi biscotti! Questi ci sono dopo! Facciamo subito! Questa ricetta è semplicissima! Fate finta che questi qua sono rossi! Però sono book! La ricetta che ho scritto io! Fate finta che anche questo è il rosso di Natale! Però è un po' ragione! Sono la tovaglia il rosso! Ragazzi! E' il rossetto! E' rossetto! Allora! Farina integrale! Allora! Spediamo questa cosa! Che questo bigliettino l'abbiamo fatto noi! Aspettatelo! Dovete vedere? No! E' una ricetta che abbiamo fatto noi! L'abbiamo inventata noi! Ed è nostra! E' basta! Fate questa ricetta che è nostra di Gallita! E vi verranno dei mariti! Mi sembra una minaccia! Fate voi i biscotti! Fate voi i biscotti! Sono semplici ragazzi! Sono buoni e sani! Fateli a Natale! La vita fa! Non mi servirebbe un cucchiaio! Sai! Se no poi giro con il dito! Non mi pare tanto i geni! Con questo! Non puoi girare con questo! Eh! Ma dopo con che? Zucchero! Quanto ne mettiamo di zucchero? Integrale di canna! Mi raccomando! Che sta! Non mettete lo zucchero bianco! Non fate i bimbi cattivi! Se no non viene Babbo Natale! Solo carbone! Esatto! Miele! Sì! Per farli proprio dolci! Buoni! Golosi! Proprio come quelli la! Noi abbiamo preso la ricetta originale di nostra madre che faceva tanti anni fa! Che gli ha tramandato mia nonna di questi biscotti di natale! E noi poi l'abbiamo modificata per renderlo un po' più salutare! Però comunque sono dolci! Quindi mettiamo zucchero, miele! Però è buona! E' buonissima! Però non c'è il burro! Non ci sono tanti ingredienti! Quindi è più leggera! Però è ugualmente buona! Quindi è importante! E' la versione S! Dei biscotti ginger! Ho sputato un po' nell'impasto! Però vabbè! A Natale! A Natale si può sputare! A Natale poi! A Natale poi! A Natale poi! Sputare nell'impasto dei biscotti che mangerai! Vabbè! Miele! I miele! I miele! I miele! I miele! I miele! Non è che fa tanto freddo! Mi sto schiaffando di calma! Vabbè! Allora! Il miele serve solo per dare un'aroma di dolcezza ulteriore! Appunto perché questi qua sanno molto di miele e di cannella! Quindi io vi consiglio di metterlo! Sì! E poi li rende più morbidi! Non sono proprio secchi! Sono più morbidi! Esatto! Sono molto molto buoni! Sì! Comunque di miele ne basta un cucchiaio! Eh! Non esageriamo! Anche il zucchero! Abbiamo messo la quantità giusta! Poi vi regolate voi! Se vi piacciono più dolci o meno dolci! Noi facciamo una cosa base! Olio d'oliva! Invece del burro! Esatto! Che è quello che sicuramente non vi fa male! Rispetto a tanti oli, burri, grassi, schifezze varie! Latte di mandorla! Ragazzi! L'abbiamo messo nella tazza di Natale! Ah! E' bello! E' proprio il latte di mandorla! Quello la naturale che compriamo al suo mercato! L'abbiamo messo qua dentro! E' troppo bella questa tazza che ci ha regalato una ragazza! Mangiamo un bacio grande! E latte di mandorla o qualsiasi altro latte vegetale! Non vi preoccupate! Non abbiamo scelto questo perché è più dolce! Si! Poi la mandorla pare che ci ha seccato! La cannella e il miele vengono buoni! Ma anche quello di soia o qualsiasi altro! Ma viene bene! Poi come al solito per tutte le modifiche Guardate anche sul nostro blog www.calitadorce.com Dove Nancy vi fa un bel post con tutte le sostituzioni alla ricetta! Quindi andate a leggere! Ok! Sale un pizzico! Un pizzico! Guardate! Qua sta ancora tutto così! Ancora non mescolato! Perché voi sapete tutte le regole della pasticceria! Aggiungi prima quello! Ma mescola l'albume con il zucchero e il tono con quello! Poi scordatevelo! Le ho mescate tutte le cose assieme e fate che a presto! Sono le ricette di gallina dolce! Questi biscotti non abbiamo fatto una versione vegana! Non abbiamo messo neanche le uova! E' importante per i vegani! Sana, leggera e vegano! Comunque un pizzico di sale ci vuole che dà quella cosa di agrodurre! E poi ora dobbiamo mettere le spezie che rendono i biscotti proprio natalissimi! Le spezie ci vogliono e ragazzi che è il punto forte di questi biscotti! Allora Nancy vai! Cannella! Yeah! Cannella! E' la spezia più predominante! Ma ti ne scambiasci poco! Per il mio po' la capodanna! Ma canna da! Infatti sto facendo anche la cannella challenge! E' perchè quello sei! Una challenge! Praticamente devi narrare quanto è pintare di cannella! Che idea se me la facciamo la cannella challenge! Ma neanche no! Come si? Ma anche no! Mettete un pollice in su per fare la cannella challenge! No! La cannella challenge! Così la affoghiamo! Infatti muo! Ma boh io mi sto più o meno 3, 4, 10! Ma no! Quante mi sto mettendo! La raccontiamo! Noi! Zenzero! Lo zenzero un po' di meno della cannella! Che comunque il sapore è un po' forte! Io metto 2! Quindi io la basta! Poi io messo un cucchiaino! Baaasta! La mia! Noce moscata! Noce moscata! Noce moscata! Noce moscata poco! Un quarto di cucchiaino! Ragazzi! Non ho messo un altro! Ho scritto sulla ricetta un quarto di cucchiaino! Non ho messo un altro l'ottavo! Aspetta! Anna mia! Viene salato! Un quinto e un quarto! E basta! Noi mami sempre esageravano! Aspetta pure il peperogino l'altro po'! Ma che fai? Vabbè! Nadale non fa niente se c'è il rossetto tutto squavato! Ma qua ci vogliono pure i chiodi di carofano! Non li fanno schifo però! Non li mettiamo ragazze! Non li mettiamo ragazze! Non fai niente! Questo video è spettacolare! Ah! Aspetta! Il divento ci vuole! Vabbè! Ammescavo mi provoca! Lo riprendo da vicino! Volete vedere questo bell'impasto da vicino? Capri! Ma troppo schifo! Inbuttate tutto e mescolate tutto assieme! Non preoccupate! Garantisce carlino! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! No pride for me! For you and your baby! Eccoti qua! Eccomi! Sto mescolando tutto! Praticamente devo pigliare qualcosa che mescola perché così non riesco! Devo sporcare pure il frullino! Lo mescolo con le mani ah! Mescolo con le mani! Si fa schifo! A me no! Io lo lavate! Lo lavate bene 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 bene! Ve lo giuro! Lo lavate! Ma scusa il lievito si mette alla fine! Si ma ora lo possiamo mettere! Ok! Io mescolo sempre un pochino e poi lo metto! Ecco qua! Ho messo anche il lievito! Ok! Adesso continuo a mescolare! Lievito istantaneo! Anzi mescolo con le mani Nenzi tanto a te! Non ti fa schifo! Si è lievito per dolci! Noi usiamo lievito per dolci bio lo sapete! Comunque qualsiasi lievito per dolci va bene! Adesso facciamo la palla! Ora devi fare una bella palla! Una palla di Natale! Guardate com'è bellino l'alberello là dentro nella baguetta! Facciamolo vedere che la giusta si vede proprio! Sta poverina ha fatto una bella scenografia ma non so se si vede io! Com'è bellino! Piccolo piccolo! Guardate com'è bella scura la palla! Esatto! Guardate! I biscotti di Natale, quelli che facciamo noi originali, erano proprio così con la farina integrale! Perchè sono proprio scuri! Vedete ragazze come deve venire Paziana e Rorraine! Sta ricetta è perfetta! E' la guerra! Perchè vi viene proprio questa palla di questa consistenza! Vedete bella soda e così vi deve venire! Adesso però dovete avere un po' di pazienza ragazze! Lo so che vi li vorreste mangiare così crudi! Però dovete metterlo in frigo! Per un'oretta eh Nancy! Almeno non dico assai ma almeno 30-40 minuti il frigo deve stare! Deve riposare poi dopo prendete e facciamo i biscottini e ci divertiamo! Facciamo le formine! Eccola qua è fatta la palla ti piace? Eccola qua bella! Mettiamo in frigo e ci vediamo fra 40 minuti meglio un'ora! Ciao ciao! Eccoci qua Nancy! E' pronta la nostra palla! Guarda com'è bella! Ecco le formine! Si è fatta bella confatta ragazze! Quindi siamo pronti! Mettiamo un velo 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 di farina ma poco poco poco! Questo bel tagliere che ho preso che dobbiamo fare tutti tutti i nostri omini! Guardate che bello! Questo poi con i bambini li mettete a fare tutte le formine e vi divertite! A me ci stanno i bambini! Oh no! Che peccato! Io quando ero piccolina mia mamma mi metteva sempre... Per toglierla da mezzo la metteva la vicina a fare le formine! Non è vero! Non dire queste cattivele! Noi ci divertivamo sotto a Natale facciamo un sacco di dolce, un sacco di biscotti, di tortini Allora a me questa cosa mi ricorda tanto quella tua spera natalizza che c'era allora! Troppo bella ragazze! Non ve li perdete questi momenti! Fatele assieme ai bambini! Con i bimbi! Ma pure tra di voi! Anche se non ci sono i bimbi tra di voi! Noi siamo noi bimbi! Che fai? Allora fatele belle i sottini sottini ragazze! Stendete! Qua si fa di muscolo! Ok così! E ora facciamo le formine! Aspetta! Come se non lo facciamo le formine degli omini? Sono tutti omini chiatti! Non è pochi omini chiatti! Ma che rumore? Questo è rumore! Non è rumino! Ah questo è rumino! Nei se ti piacciono più sottini o più doppi? Più doppi sostanziosi! Quelli poi crescono un po' capito! Ma niente mi piacciono per i doppi doppi! Ok! E poi li mettiamo qua! Già posizionato dei ruoti con la carta forno! Tu prendi il tuo ruoto e prendi il mio! Non ti faccio una schifida! Neh! Ti fa più una schifida! No! Ecco qua! Facciamo tante formine! E li mettiamo qua nel ruoto! Con la carta forno! Senza olio e senza niente! Fateli di varie misure! Se trovate le formine! Noi queste qua! Non lo so se ve l'abbiamo detto! Noi le abbiamo comprate da Tiger! Perché chi ci segue anche sul primo canale! Lì abbiamo fatto la review di tutte le cose Tiger! Tra cui queste formine che abbiamo comprato là! Ma si trovano anche nei negozi tutto casa! Da per tutto! Da per tutto! Guardate come sono belli i miei omini! Brava! Brava! Vediamo i tuoi! Faccio tutti! Sì! Tutti rosso! Eh no! Adesso dopo quello che avanza si rimpasta! Oh ma no! Ma si è decapitato! Guarda l'omino! Questo è decapitato tutti gli omini! Questi sono bellini! L'omino è decapitato! Mannaggia! Madonna mia! Quello che resta si rimpasta! Si fa un'altra palla! E si stende di nuovo! Non si butta niente! Mi raccomando! Cioè non finiremo mai! Guarda qua! Ma non ho fatto tutta questa pasta di biscotti! Eh ma quelli se ne vengono tantissimi! Infatti se voi ne volete fare di meno! Dimezzate la quantità della ricetta che vi abbiamo dato! Sennò passate tutti il Natale a fare biscotti! Brava! E poi li fate per tutto il vicinato soprattutto! Vi ringrazieranno! Se ne voglio fare qualcuno grande grande grande! Guarda Renzi! Bello! Proprio quei biscottoni belli! Tipo i biscottoni al burro! Guarda come sono belli! Guarda! Bellissimi! Che belle omini! Questi sono belli anche da decorare! Troppo troppo carini! Ecco qua! Ragazzi mi sono venuti tutti secchi secchi! Amici omini! Mi ho fatto tutti dei pediti! Vabbè! Adesso andiamo a fornare! Occorrono pochi minuti nel forno a 180 gradi per essere cotti i vostri omini! Andiamo! Ecco i nostri fantastici biscottini! Sono pronti! Ne prendo uno! L'altra! Sono buonissimi! Sono buoni buoni! Già li abbiamo assaggiati eh! Come sono? Ragion'altro! Buoni! Sono buoni! Super croccanti! Troppo troppo buoni! Quelli piccoli sono croccanti! Quelli grandi sono più morbidi! Sono tipo i biscotti al burro! Però senza burro! Figata! Tanti omini! Ragazze! Come sono belli i nostri biscottini! Dite la verità! Questi li potete anche decorare! Come volete voi! Si fanno tante decorazioni! Fate gli occhietti! Il nasino! Poi più grandi! Più piccoli! Sono troppo! Ma a me questi piccolini! Ma sono troppo simbatici! Si mangiano tutti i biscottini! E come sono buoni! Sono troppo buoni! Buonissimi! Una ricetta così semplice! Veloce! Sana e leggera! Ma buonissimi! Senza il burro! Senza il burro! Buon Natale! Vegana! Mi raccomando! Se li fate! Fatecelo sapere! Taggateci anche su Instagram! Vatti ci vedete nelle foto! Taggate! Carità dolce! Neziamo alla trattino basso! Noi mandiamo tanti baci! Vi auguriamo buon Natale! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!